Ben ritrovati a tutti cari amici, è ora di parlare di Wrestling WWE, si aggiorna la card del pay per view evento speciale in Arabia Saudita giovedì prossimo Super Showdown 2020. Infatti abbiamo di nuovo la sfida tra Belly e Naomi, Naomi che ha battuto nell'ultima puntata di Friday Night Smackdown Carmel e quindi si è guadagnata il titolo di sfidante numero uno alla cintura femminile dello show blu. Quindi Belly contro Naomi si va ad aggiungere a la card oltre al New Day contro Demise e Morrison per i titoli di coppia di SmackDown, a Brock Lesnar contro Ricochet per il titolo WWE, a Roman Reigns vs King Corbin 1 Steel Cage nella gabbia d'acciaio, Definde Bray Wyatt vs Goldberg per il titolo universale e J Styles contro Andrade, contro Lesley, contro Roe, contro Artruth, contro Rusev per il Dweck Trophy, appunto Belly contro Naomi, Seth Rollins e Murphy contro Street Profits per i titoli di coppia di Raw. E' un'altra cosa importante da dire dopo la puntata di SmackDown, che le sorelle Bella Twins, Brie Bella e Nikki Bella faranno parte quest'anno dell'Arca della Gloria, quindi della Love Fame 2020, oltre ai già ufficializzati Battista e New World Order, tra cui Hulk Hogan, Kevin Nash, eccetera eccetera. Buon pepervio a tutti, noi ci vediamo martedì per commentare la card definitiva e quanto accadrà a Raw, speriamo che venga aggiunto almeno un altro match, così arriviamo a 8. Anche perché credo che lo show principale durerà almeno 4 ore. Buon wrestling a tutti, ciao!